Oggi parliamo di un libro pubblicato negli specchi Marsiglio, Gladio Rossa, l'autore Rocco Turi, il sottotitolo del libro è una catena di complotti e delitti dal dopoguerra al caso Moro. Sono molti in Italia i complotti e i delitti? Sì, certo. Possiamo cominciare dalla Gladio Rossa, che era un'organizzazione nata nel 1948, operativa da 50, che aveva lo scopo di svolgere un ruolo di quinta colonna al servizio del comunismo internazionale. Vi parteciparono un numero elevatissimo di ex partigiani che avevano commesso gravi crimini in Italia e che erano costretti, sono stati costretti a fuggire, aiutati dal Partito Comunista italiano. Furono accolti a Praga e insieme alla Gladio Rossa ci fu tutta una serie di personaggi, figure che avevano come prima azione un golpe da compiere in Italia nel 1951, però fu sventato, il governo italiano reagì ed ecco che l'organizzazione di ex partigiani Osoppo fu trasformata in servizio segreto, da cui nacque la Gladio Stay Behind. Ci fu una specie di gioco fra guarda e ladri, fra le due organizzazioni, fino al caso Moro, allora quando paradossalmente gli interessi furono coincidenti. Da un lato la Gladio Rossa non gradiva il compromesso storico, dall'altro una parte della Stay Behind, della Gladio Stay Behind, non gradiva la formazione del compromesso storico. Questa inerzia fu la causa dell'assenza di indagini sul caso Moro. Sembra un argomento molto interessante, comunque sempre di attualità. Anche perché in questo libro traccio un filologico che va dagli eccidi partigiani del dopoguerra, arriva addirittura fino a Tangentopoli, all'interno del quale, filologico, vi è la ricostruzione della vera storia delle Brigate Rosse, del caso Moro, con strascichi che giungono al momento in cui Andreotti rivelò l'esistenza della Gladio Stay Behind. E fu proprio questa rivelazione alla base dei guai giudiziari di Andreotti, possiamo dire che questo caso costituì la genesi dell'affare di Tangentopoli. Grazie Rocco Turi, ricordiamo il suo libro Gladio Rossa, una catena di complotti e delitti dal dopoguerra al caso Moro, pubblicato da Marsiglio nella collana Gli Specchi. Dopo questa intervista di Alain Elkan, il libro fu oggetto di ostracismo politico fino alla silenziosa censura e alla moderna condanna a rogo, ovvero restituzione dei diritti d'autore ed eliminazione definitiva dal catalogo della casa editrice Marsiglio, come se il libro non fosse mai esistito. È caso unico al mondo, è caso didattico nelle lezioni sulla libertà di stampa per la quale l'Italia si colloca oltre il settantesimo posto nella classifica dell'organizzazione mondiale Freedom House alle spalle di Grecia e Cile. Ma Gladio Rossa può essere consultato nelle biblioteche OPAC SBN e in centinaia di altre biblioteche italiane e nel mondo, fra le quali le prestigiose Library of Congress, British Library, Stanford University e Columbia University Libraries. In alcuni miei interventi su YouTube, in occasione del 42esimo anniversario dalla morte di Aldo Moro, maggio 2020, ho descritto silenzi, depistaggi e censure attorno al caso che avevo già risolto nel 1990, esattamente dopo 12 anni dall'omicidio e poco dopo il fallimento della Commissione parlamentare d'Inghiesta sul sequestro di Aldo Moro, quando lo Stato italiano mi aveva autorizzato a ricercare verità, testimonianze e documenti sull'assassinio politico che aveva sconvolto il nostro paese tra i partigiani italiani rifugiatisi in Cecoslovacchia. Dalla storia partigiana del dopoguerra, fino allo scandalo di Tangentopoli, c'è un filologico che si collega al caso Moro. Tutto è ben descritto in Claudio Rossa, una catena di complotti e delitti, dal dopoguerra a caso Moro, anche usando verbia condizionale come condizio sine qua non alla pubblicazione del saggio. Si può comprendere come il mondo comunista di allora ed ex comunista di oggi si sia impegnato nel tempo a difendere la propria storia e ignorare i fatti, ma nasconderli è umanamente impossibile. Insieme a migliaia di libri inutili e inconcludenti articoli giornalistici sul caso Moro, usciranno ancora altri volumi, ma il Dado e Tratto e il libro Gladio Rossa è pietra miliare in condizione di sfidare qualsiasi teoria di comodo. La soluzione del caso Moro è già scritta da tempo. Dal tempo in cui Brno, Praga, Berlino, Mosca, Vienna, Bratislava e Budapest furono per anni la mia casa e la mia vita.